Un saluto agli amici di Trebimeteo da Stefania Cattaneo. Sarà un fine settimana di maltempo tipicamente invernale sulla nostra penisola. Infatti l'Italia sarà raggiunta da vari impulsi di aria fredda di natura artica pilotati proprio da una vasta e profonda circolazione di bassa pressione che ingloba buona parte dell'Europa. Le regioni del centro-sud sono le più coinvolte da acquazzoni, temporali, piogge insomma fenomeni anche intensi sui versanti tirrenici. Le regioni più coinvolte saranno Lazio, Sardegna ma anche Campania, Calabria, Tirrenica, Basilicata, Nord-Ovest della Sicilia. E il tutto come vedete nella grafica sarà accompagnato anche da venti forti occidentali con possibili mareggiate sui tratti esposti. Infatti tanta neve attesa sull'Appennino la vedete segnalata qua dai 1000-1200 metri a tratti anche sotto gli 800 sulla dorsale appennica centrale. E infatti domenica avremo quota neve in calo sull'Appennino fin verso i 500 millimetri ma anche 200-300 tra Umbria e Toscana orientale. Mentre andrà meglio al nord vedete tempo più asciutto, più soleggiato salvo qualche fenomeno proprio sulle coste della nord-est. E ora vediamo proprio un accenno veloce all'inizio della settimana perché febbrario comincerà all'insegna del freddo. Temperature che subiranno un'ulteriore diminuzione quindi calo dei valori per tempo che sarà tipicamente dalle caratteristiche invernali. Per tutti gli aggiornamenti del caso consultate il nostro sito www.trebimeteo.com oppure scaricate la nostra applicazione. Grazie. Grazie.